Salve a tutti e benvenuti in questo video aggiornamento, un video anche ringraziamento perché abbiamo toccato quasi 1600, grazie, grazie di cuore ragazzi, sono molto contento per questo voglio appunto dirvi soprattutto che la prossima settimana ci saranno nuovi video purtroppo questa settimana non ho potuto pubblicare appunto nessun video ma ho lavorato però sulla nuova serie Mix insieme a me, la terza stagione dove andremo a mixare un brano pop, poi tutti i video che voi mi avete richiesto sono tantissimi io ci sto lavorando, li sto organizzando, li sto sistemando per bene e ci saranno, tranquilli, quello è sicuro anzi vi dico alcuni che farò poi dopo questa nuova serie, uno sul form, uno sulla libreria del Reactor 6 uno su come registro i video tutorial, quindi una cosa tecnica sui programmi che utilizzo uno su come creare delle super show, nel frattempo sto sputando poi come effettuare un sidechain in tutti i modi possibili, un buon sidechain insomma tantissimi altri video io ragazzi vi aspetto quindi la prossima settimana nel frattempo ovviamente vi auguro buone feste, buona Pasqua mi raccomando non mangiate troppo e niente una buona continuazione ma soprattutto una buona, devo guardare qua ogni volta una buona musica, ciao